... Riparte il campionato, il tecnico dell'Udinese non sottovaluta le insidie del match di domani ma dice la scelta più difficile è chi non far giocare 200 i tifosi al seguito della squadra Aggredita e derubata una coppia che si era partata in un edificio abbandonato a Pazian di Prato ad avere la peggio ragazzo preso a calcio e pugna, arrestati due marocchini A Samardè in Chiavanda li hanno incendiato in anticipo il Pignarù sul Monte Chiampeon la pira più alta della regione, i ragazzi del luogo al lavoro tutto il giorno per ripristinarlo Da ieri e soprattutto oggi pomeriggio sono cominciati i rallentamenti in A4 transiti delle feste in Binia con i numeri dello scorso anno A tutti voi buonasera e ben trovati al consueto appuntamento con il TG in diretta su Udinese TV Apriamo con il campionato di Serie A che è ripartito e che vedrà protagonisti i bianconeri domani a Lecce alle 18 Bianconeri che sono appena arrivati a Lecce ed è proprio lì che andiamo dal nostro Jacopo Romeo per farci raccontare questa giornata e tutti i temi relativi al match Buonasera Jacopo Ciao Giorgia, buonasera a te, buonasera a tutti i nostri telespettatori Ci torniamo tra poco a Lecce appena perfezioniamo il collegamento a Lecce dove tra l'altro c'è un nutrito gruppo di tifosi friulani Scusate, sono circa 200 e vi anticipo che potete andare sulla nostra pagina Facebook per vedere tutti gli spostamenti dei friulani a Lecce Ci sono molte foto che ci sono state inviate, foto e video Ma ora torniamo in diretta a Lecce dove vedo pronto Jacopo Romeo Torniamo da te Jacopo Tentativo numero 2, ciao Giorgia, nuovamente buonasera qui in diretta da Lecce dove la pioggia, il vento e il freddo la fanno da padrone Sembrerà strano in Salento visto le latitudini, ma intanto è così Ma l'Udinese non deve farsi condizionare da questo perché grazie anche alla carica dei propri tifosi Oltre 200 domani saranno allo stadio Via del Mare per assistere al match Vuole cogliere un successo importante la squadra di Luca Gotti Perché? Perché certificare e dare continuità dei risultati al bel successo contro il Cagliari presosta Potrebbe schiudere nuove prospettive all'Udinese in classifica e non solo Per farlo allora il mister vuole che la squadra mantenga la concentrazione E metta in campo tutti quei progressi, quei miglioramenti Quelle tappe positive del processo di crescita che il suo gruppo sta affrontando giorno dopo giorno Bisognerà dunque evitare disattenzioni, bisognerà stare concentrati sul pezzo Per evitare anche i rischi che un po' di ruggine da grattare potrebbe presentare una partita post-sosta natalizia Contro lecce che si è vero in casa ha avuto delle difficoltà importanti Le ha tuttora, non ha mai vinto tra le Muramiche Ha conquistato 15 punti ma soltanto 4 al Via del Mare Tutti gli altri 11 lontano da casa però c'è E dovremmo forse ricorrere al tentativo numero 3 per collegarci con Jacopo Romeo Potremmo fare così, potremmo mandare intanto una pillola di quella che è stata la conferenza stampa di Luca Gotti E poi torniamo a Lecce Mi aspetto un Lecce molto aggressivo, propositivo Che rispetto alle cose che abbiamo detto e anche alle ultime partite che ci sono state Rispetto al fatto di aver raccolto poco in casa cercherà di essere particolarmente offensivo e aggressivo Noi dobbiamo mettere in campo il nostro percorso, il nostro miglioramento Il nostro essere sempre più squadra nelle due fasi di gioco Lecce è una squadra che negli ultimi due anni ha vinto due campionati Che ha affrontato questo campionato di Serie A con la spinta di due anni vincenti Con la propositività, con il coraggio Ha raccolto 15 punti finora, in gran parte dei quali in trasferta Vengono da due sconfitte Da due sconfitte e noi sappiamo bene l'atteggiamento che troveremo in campo domani dal nostro avversario Cerchiamo, come ha detto lei, di dare continuità ai risultati E anche di cambiare un trend che ci ha visto raccogliere troppo poco in trasferta Finora dei 18 punti che abbiamo, 14 li abbiamo raccolti qui a Udine E solo 4 in trasferta Quindi è evidente, i numeri dicono che c'è qualche riflessione da fare su questo I numeri elencati da Luca Gotti, quelli dell'Udinese e quelli del Lecce Che appunto ci stava anticipando il nostro Jacopo Romeo Che ora abbiamo di nuovo collegato Riproviamoci Jacopo Sì, spieghiamo anche ai nostri amici da casa Che le condizioni atmosferiche avverse Possono avere un'influenza anche sul segnale delle apparecchiature per trasmettere in diretta Quindi non dipende dalla nostra volontà Numeri che l'Udinese vuole invertire Parlavamo prima dell'interruzione del trend negativo in trasferta Ma numeri sono anche abbondanti Quelli dei giocatori rosa a disposizione di Gotti E oggi lo ha detto in conferenza stampa Io spesso e volentieri sono in difficoltà Perché ho abbondanza in tutte le parti Anche se per la sfida di domani non si dovrebbe derogare dall'11 Che abbiamo visto scendere in campo e battere il Cagliari lo scorso 21 di dicembre Lui ha fatto i nomi in attacco a Pussetto, Teodorcik, Nestorowski Tutti i giocatori validi ma che non hanno trovato molto spazio Ma che lui tiene in considerazione A centrocampo rientra Iaialo che è stato un perno della squadra nei primi mesi Domani dovrebbe ripartire dalla panchina ma è stato ed è un giocatore importante Dunque lo mette ancora in difficoltà nel compimento delle scelte di formazioni Quindi ci sono dei rebus anche un po' da sistemare Ma la sensazione è che alla fine si prosegua sull'onda della continuità Anche per favorire ed incentivare quel processo di crescita Chiaro è che un giocatore come Pussetto che ha chiuso in netta scesa il 2019 A gara in corso rappresenta un'alternativa e un'arma tattica preziosissima Allora io direi Giorgia andare ad ascoltare anche il secondo estratto Dalla conferenza odierna di Mr. Gotti Proprio inerenti tutti questi argomenti E poi rientriamo qui per parlare anche dell'affetto e dell'entusiasmo di tutti i tifosi bianconeri Quelli che stanno giocando un po' meno stanno spingendo molto verso l'alto questa competitività Spero che questo non debba diventare un problema nel mese di gennaio Che è un mese problematico in generale con il mercato aperto E in particolare per una squadra come la nostra Dove ci sono tanti giocatori che dal mio punto di vista meriterebbero di giocare Che stanno facendo di tutto per meritarsi di giocare E che potrebbero dire Vado da un'altra parte insomma Le faccio un esempio Le faccio un esempio per spiegarle perché questa delle scelte di chi non far giocare Prevalentemente È la cosa più difficile che devo affrontare con questa squadra In questo momento Il reparto avanzato Abbiamo un reparto avanzato Teodolcic è quello che ha avuto meno occasioni di tutti Meno possibilità di tutti Pussetto che si è allenato una settimana prima di Natale con la squadra E poi da quando abbiamo ripreso l'attività Si è sempre allenato con la squadra Adesso è in piena efficienza Forse non ha i 90 minuti ma è in piena efficienza È entrato con la Juve da esterno e ha fatto gol È entrato con il Cagliari ed è stato determinante Per il gol del 2-1 E meriterebbe di giocare Merita di giocare Nestorowski Io l'ho impiegato e ha fatto molto bene Ha già fatto 4-5 gol Che gli hanno annullato prevalentemente per questioni di centimetri E ha un atteggiamento quotidianamente Che merita di giocare E allo stesso tempo i due che ho fatto giocare in queste ultime partite Okaka e Lasagna mi hanno soddisfatto Si allenano anche loro al massimo delle possibilità Questa è la mia vera difficoltà Di leggere la situazione Leggere il tipo di partita Il tipo di avversario Prima che questo succeda E fare le scelte più corrette Però sono in difficoltà Rispetto a questa presenza molto forte Che mi danno tanti giocatori E dunque tutti sono votati alla causa Tutti vogliono essere i protagonisti E lui deve cercare anche di fare le migliori valutazioni possibili Abbiamo iniziato Tu il telegiornale Io il primo dei miei numerosi tentativi di collegamento Giorgia parlando dei tifosi Oltre 200 domani allo stadio Ma già ieri l'udinese club Fagagna Ha avuto un gemellaggio Con il club tifosi del Lecce Amici giallorossi Nell'ottica di un programma Che vuole promuovere Come possono dissonare anche le immagini Questi momenti di convivialità Per far sì che il calcio Lo sport in generale Sia sempre un momento di aggregazione E dunque sarà bello vedere Come tra i due tifosieri E tra questi due club Si è sviluppata questa amicizia Ed anche e soprattutto L'udinese può contare Ancora una volta Anche ad oltre 1000 km Di distanza da Udine Sull'amore e sulla passione incondizionale Un gruppo proprio di tifosi Poi tra l'altro Spoilerò anche questo Sempre nel club di Fagagna Domani un piccolo gruppetto Verrà qui la mattina in ritiro A dare un saluto A dare un'ulteriore carica ai giocatori Cosa che è già successa Perché un gruppo di tifosi L'udinese di rivolto Si è fatto trovare A Brindisi in aeroporto Ad accoglierci Ad accogliere la squadra Al momento dell'atterraggio Nonostante la tempesta Nonostante il vento Il clima sfavorevole Sono venuti fin Brindisi in aeroporto Per dare una carica ai giocatori Cori Incitamenti Per tanti Da lasagna A Pussetto Molto molto acclamato Nacio Pussetto Molto molto acclamato Anche Juan Musso E naturalmente I giocatori volentieri Sono prestati anche per foto Ed autografi di rito Ed è bello Perché c'è passione C'è sostegno attorno alla squadra Quindi domani Ci sarà anche Questa marcia In più Nel motore Dell'udinese Il nostro bravissimo Suli Adesso poi Mi fa anche intravedere Quello che succede fuori Dove non possiamo uscire Perché parlavamo E la tempesta Guardate lì Gli addobbi Di natalizi Illuminarie Come ondeggiano Perché c'è davvero Un vento Disumano Detto questo Vento Ci sarà Seppur meno Stando alle previsioni meteo Domani al Via del Mare Perché come testimonia Anche il nome Dello stadio stesso Siamo al ridosso Appunto Del mare E tradizionalmente Lecce è un campo ventoso Dunque attenzione Anche a quello Che potrebbe essere Un fattore Durante lo svolgimento Della partita Lecce Che arriva a questo match Da due sconfitte consecutive Ma questo Non deve far sì Che l'Udinese abbassi la guardia L'ha detto categoricamente Luca Gotti E' un Lecce Che cerca la prima gioia In casa E si è soffermato Su questi aspetti Proprio l'allenatore De Giallo Rossi Fabio Liverani In conferenza stampa Ascoltiamo allora Quelle che sono state Le parole del tecnico leccese Alla vigilia Giorgia E con questo Da Lecce è tutto E ti restituisco la linea Sono tornati bene Dalle vacanze E li ho visti Sicuramente anche Mentalmente più Più rilassati Più forti Meno stanchi E con grande voglia Di ricominciare E quindi spero insomma Che Che l'anno Possa iniziare bene Sapendo che incontriamo Una squadra Ostica Esperta Molto molto fisica E che gioca Prevalentemente Su queste grandi ripartenze Avendo tanti giocatori Di gamba Sia davanti Che sugli esterni E con giocatori Di grandissima qualità In mezzo al campo Come De Paul E Mandragora Che danno Quella fantasia Ai restanti giocatori Che hanno Nella gamba Nella fisicità Nell'attaccare La profondità Grande forza fisica E allora Vi abbiamo davvero Raccontato tutto Da Lecce Comprese Le condizioni Meteorologiche Avverse Che hanno complicato Un pochino Il nostro collegamento Ci saremo Ovviamente Anche domani Con Studio Stadio Ci collegheremo Da un'ora Prima del match Per raccontarvi Ancora Tutti quelli che Sono i temi Delle ultimissime Degli ultimissimi Minuti Comprese ovviamente Il calore Dei tifosi Che in questa Trasperta Sono davvero Eccezionali Ora Chiudiamo la pagina Legata all'Udinese Apriamo invece Quella della cronaca Una ragazza E un ragazzo Sono stati Aggrediti nella notte Da due sconosciuti A Pasiandi Prato Mentre si trovavano In via Latisana A chiedere aiuto In lacrime Via telefono La ragazza Mentre il giovane Con cui si trovava Veniva malmenato A calci e pugni E poi derubato I carabinieri Hanno arrestato Due stranieri Per rapina aggravata E lesioni personali Il servizio Di Monica Nardini Aggressione con rapina Nella notte A Pasiandi Prato In via Latisana Una 26enne Residente a Udine Ha telefonato Intorno a mezzanotte In lacrime Al 112 Affermando che Due malviventi Stavano prendendo A calci e a pugni Il ragazzo Che si trovava con lei Un giovane Di Milano Classe 1991 Sul posto Sono giunte Rapidamente Due vetture Del nucleo operativo E radiomobile Dei carabinieri Della compagnia Di Udine I militari Dell'arma Hanno trovato La giovane Sconvolta E il ragazzo Ancora a terra Malconcio Senza più portafoglio I due Che si erano fermati Nell'area Come raccontato Per guardare le stelle Hanno descritto Dinamica e aggressori Parlando di due uomini Stranieri Gli elementi forniti Hanno portato rapidamente I carabinieri A individuare I presunti responsabili Due cittadini Marocchini Già noti Alle forze dell'ordine Un ragazzo Di 21 anni E uno di 34 Gli hanno raggiunti Poco dopo Nel bivacco In cui stavano Già dormendo Distante poche Centinaia di metri Dal punto dell'aggressione Bivacco Nel quale I carabinieri I carabinieri Hanno trovato nascosti Il cellulare E il portafoglio Rubati al ragazzo Malmenato Entrambi gli stranieri Sono stati arrestati Per rapina aggravata E lesioni personali Nel frattempo Il giovane aggredito E' stato portato All'ospedale E' stato dimesso Intorno alle 5 della notte Con un referto Di 10 giorni Di prognosi E ora veniamo Ai temi Dell'epifania Che si festeggerà Domani Si celebrerà Domani In regione Con tanti Con il rito Del pignarul In diversi luoghi Pronti per essere Accesi C'è stato però Un fatto Antipatico Accaduto A San Mardenchia Dove Nella notte Alcuni vandali Hanno dato fuoco In anticipo Al pignarul Preparato Appunto Per domani Non è chiaro Il motivo Del gesto Forse uno scherzo Ma sta di fatto Che della pira Costruita appositamente Per l'occasione Stamani Non era rimasto Nulla Tra l'altro Si tratta Di una pira Particolare Perché sul monte Chiampeon Raggiungibile Praticamente Solo a piedi Insomma In maniera Non così Agevole Ed è La pira Più alta Della regione E' uno dei Tanti pignarul Che si accenderanno A seguito Del principale Pignarul Grande di Tarcento Domani sera Ed è proprio Per arrivare Puntuali All'appuntamento Che oggi Per tutto il giorno I ragazzi Della zona Si sono rimboccati Le mani Che hanno tentato Di ripristinare La costruzione Del pignarul Appunto Che sarà protagonista Dei festeggiamenti Di domani Festeggiamenti Che sono già partiti Ovviamente A Tarcento Andiamo A vedere Con le immagini Quello che è successo Nel tardo pomeriggio Di oggi In serata Dove c'è stato Il paglio Dei pignarulars Una corsa Con carri Infuocati Ecco qui Stiamo proprio Vedendo Il momento Della partenza Mentre siamo Già in grado Di dirvi Che la corsa Poi alla fine È stata Vinta Da Sedilis E Ci sarà appunto La discesa Dei Krampus E alle 18 E alle 18 E 30 Insomma Musica E grandi Festeggiamenti Domani poi Nel corso Di tutto il giorno Varie manifestazioni Animazione Continua Fino ad arrivare Alle 19 Con l'accensione Del pignarul Grante Alle 20 Con lo spettacolo Pirotecnico Lasciamo i riti Dell'Epifania Ci torneremo Ovviamente Domani Per raccontarveli E andiamo Invece Sulle piste da sci In particolare A Sappada Dove si è registrato Record di presenze Nel primo weekend Dell'anno Il nuovo Sesto polo Scistico Della regione Ha registrato Tra ieri e oggi Un flusso Straordinario Di turisti Complice le belle giornate Di sole Migliaia di ospiti Hanno riempito Non solo le piste di sci Della località montana Ma anche il parco Divertimenti sulla neve Le vie del centro E le suggestive strade Della Sappada vecchia Molti sono stati Gli ospiti provenienti Dal friul Venezia Giulia Ma altrettanti Quelli veneti Alcuni dei quali Hanno raggiunto Sappada Con il nuovo servizio Di ski bus Che collega la località Alle città venete Di Conegliano Treviso Mestre E Padova A Sappada Fino a domani Ultimo giorno Delle festività natalizie Le prenotazioni Presso le strutture ricettive Registrano il tutto esaurito Gli operatori turistici Soddisfatti per l'esordio Della stagione invernale Puntano ora Per le prossime settimane Sulla presenza Di turisti stranieri Prevalentemente Dei paesi dell'est Si chiudono domani Come ricordavamo Con l'epifania Le festività natalizie E allora Si parla di traffico E di rientri Abbiamo fatto il punto Con Autovie Venete I rientri Sono già iniziati ieri Per quanto riguarda La rete di Autovie Venete E infatti Ieri è stata già Una giornata Caratterizzata Da parecchio traffico Diciamo che Le code però Sono state inferiori E i rallentamenti Rispetto a quelle di oggi Che sono iniziate Già verso le 14.30 Da Villesse Fino a Palmanova Dove c'è L'interconnessione Fra A4 e A23 In direzione Venezia Si tratta Per la maggior parte Di lavoratori Che erano partiti Prima di Natale Ed erano rientrati Nei loro paesi D'origine Sommati Naturalmente Ai turisti Che fanno le ferie Per domani Per domani il traffico Sarà sicuramente Ancora sostenuto Non dovrebbero esserci Però le code Che si sono registrate Oggi Per chi Chi è partito Per rientrare Sta transitando Già oggi Quindi domani Dovrebbe essere Una giornata Di traffico Intenso Ma non congestionato Rispetto alle festività Dello scorso anno Il bilancio Per questo periodo Qual è? Diciamo che è stato In linea Con quelli che sono stati I transiti Dello scorso anno Forse un po' più Intenso Come transiti Come quantità E lo sapremo Fra qualche giorno Perché quest'anno I ponti Erano veramente Favorevoli E allora Traffico in autostrada Traffico sulle piste da sci Come vi abbiamo fatto vedere In precedenza Ma traffico anche Sulle strade cittadine Traffico di pedoni In questo caso Parliamo di Udine Seconda giornata Di saldi Ancora città Davvero affollata Con molte persone Alla rincorsa Dell'affare Dell'affare con i saldi Di fine stagione E con gli esercenti Alle prese Con una delle novità Del 2020 Ovvero Il cosiddetto Scontrino Elettronico Il cui invio A livello telematico Coinvolge Un milione e mezzo Di esercenti Che devono Dovranno Sostituire O adeguare Il vecchio registratore Di cassa Ci sono ancora Sei mesi Di tempo Per adeguarsi Vediamo Cosa ne pensano Alcuni negozianti Di Udine Obbligatorio dunque Lo scontrino elettronico Lei come sta vivendo Questo cambiamento Beh sicuramente Ha comportato Dover Sostituire Quella che è Il registratore Di cassa Quindi adeguarsi Deve Perché comunica Già tutto All'agenzia delle entrate Abbiamo dovuto Sostenere Una serie di spese Anche per questo Una spesa elevata? Beh insomma Sì abbastanza Cosa pensa di questo Obbligo dunque Di questo cambiamento Fiscale? Personalmente Non so in che cosa Questo possa portare Benefici Nel senso che Il mio modestissimo Punto di vista È che chi era onesto Continua a essere onesto E così come Emetteva lo scontrino Prima Lo emette adesso E così come Erano trasparenti Corrispettivi Prima Lo saranno anche ora Bene Non cambierà niente Penso che migliorerà La tecnologia E comunque In ogni caso Lo scontrino Bisogna rilasciarlo Si rilasciava prima Si rilascia anche adesso È una spesa in più Ma lo Stato ammortizza 250 euro Per cui penso Sia convenibile Lei è esercente Qui a Udine Non desidera essere ripreso Ma come sta vivendo Questo cambiamento? All'interno di tutte Le problematiche Che ci sono Non sembrava opportuno Non mi sono ancora adeguato Ci sono sei mesi di tempo Manderò il cartaceo Il commercialista E lui a fine mese farà Cambiare una cassa Un anno dopo Nuova Si mi serviva Mi serviva Era bello Molto bello Molto bello Ti ha già fatto richiesta Per una cassa? No No Ho chiesto i preventivi Costa tutto il doppio Rispetto a prima Come quindi si regolerà In questo periodo? Quando saranno in svenita Le compro Qui com'è vissuto Questo cambiamento? In maniera molto Tranquilla Senza nessun problema Le clienti si sono abituate Subito E per noi non c'è stato Nessun tipo di problema Fino adesso Ma è da giugno Che ce l'abbiamo Quindi siamo tranquilli La clientela Si è dimostrata curiosa Su questo cambiamento Non l'ha ancora percepita? Ne Le direi Qualcuno non credo Si sia neanche accorto Magari chi ha anche altre attività Che allora è dentro nel giro Insomma del commercio Allora sì Ma se no Qualcuno non se ne è neanche accorto Sinceramente Perché è un gesto Magari abbastanza meccanico Quindi prendono lo scontrino Senza stare a porsi Tante domande Una breve ultima ora C'è un intervento In corso Dei vigili del fuoco Per un incendio Di bosco Sopra l'auco Stanno intervenendo Anche protezione civile E forestale Non risultano al momento Feriti Ne intossicati Il tutto è partito Intorno alle 17 E appunto L'intervento Per lo spegnimento È ancora in corso Ulteriori aggiornamenti Nelle prossime edizioni Chiudiamo Ora con I festeggiamenti Della Manzanese Che si è giudicata La finale Di Coppa Italia Di eccellenza Ha battuto Questo pomeriggio Il Tor Viscosa Per 1-0 Con gol Di Bevilacqua Complimenti Dunque Alla Manzanese Di mister Fabio Rossito Chiudiamo qui Grazie a tutti voi Per la vostra Attenzione Buon proseguimento Di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie.